Il Seracusa Algaeta di Enna ottiene un pareggio per la finalissima Aldesimone. Un ottimo pareggio 1-1 in quel di Enna e a fine gara i tifosi azzurri cantano dentro e fuori dal campo. Non è ancora finita però anche se il pareggio del Seracusa Algaeta nella finale di andata dei play-off di eccellenza appone la squadra di Gasper e Cacciola con un leggero vantaggio. Grande equilibrio fra le due squadre capaci entrambe di fare la differenza con i propri singoli in qualsiasi momento. Giustificata l'euforia dei sostenitori mentre società e addette ai lavori preferiscono stare con i piedi per terra perché servirà una gara di grande intensità fra sei giorni Aldesimone per staccare il biglietto per la Serie D. Con la mente si è tornati indietro a qualche anno fa con la festa di Rende e la caravana azzurra a cantare a lungo dopo la partita ma non è ancora finita. Piedi per terra e fra sei giorni si tireranno le somme.